Fratelli e sorelle bianconeri, buongiorno! E allora ragazzi, oggi vi volevo parlare di due cose. Innanzitutto del campo di patate, che troveremo domenica sera all'Olimpico. L'altro argomento è lui, il pugliese, il traditore, il cartonato, va, l'avete capito? Il porco, il maiale. Sì, proprio lui, Antonio Conte, sì, è lui che si lamenta sempre, ma ne parleremo tra poco. Prima fatemi accennare a questa cosa del terreno di gioco e ci tengo particolarmente. E spiegare innanzitutto perché Roma e Lazio giocano contemporaneamente l'ultima giornata in casa. E l'ultima giornata di ritorno, ovviamente, entrambe in trasferta. Perché? Perché ci sono delle date di consegna dello Stadio Olimpico, che ospiterà le prime gare degli europei, della nostra nazionale, e soprattutto la gara inaugurale dell'europeo. E dunque la UEFA ha bisogno di un tot di settimane come da prassi, un tot di settimane di anticipo di consegna del campo come da prassi UEFA per questi eventi. Dunque le ultime due giornate di ritorno non potevano soffruirne né la Lazio né la Roma. Dunque l'andata in casa. L'andata in casa entrambe che cosa vuol dire? Che la Lazio giocherà sabato e il giorno dopo in un terreno che ovviamente sarà un pochino disastrato. Giocheranno Roma e Juve. Roma e Juve. Questo, ripeto, non è un accampare scuse, ragazzi. Perché sì, la Juve gioca un calcio di possesso palla, di palla comunque, di palla a terra, palla a raso terra. Lo fa anche la Roma, comunque. La Roma pratica anche questo tipo di calcio, perciò saranno penalizzate entrambi. A andarci di mezzo saranno gli spettatori in tribuna e in tv. Saremo tutti penalizzati a vedere una partita dove i rimbalzi saranno palesemente irregolari. Perché non c'è il tempo in un giorno del drenaggio del campo, il sistemare. Non c'è assolutamente tempo, ragazzi. E ci si poteva pensare prima. Si poteva mettere una partita il venerdì oppure l'altra il lunedì sera come da prassi, posticipi del lunedì. Quanto meno da dare un giorno in più per sistemare questo campo. Rizzollare, insomma, i pezzi saltati d'erba, insomma, il drenaggio. Ma lasciamo stare. Questa è la solita cazzata della Lega. E spero vivamente che né Juve e né Roma debbano sacrificare dei giocatori per quel terreno. Perché se qualcuno si farà male, se qualcuno si infortunerà, pregiudicando magari la nostra stagione, saranno cazzi amari per voi. Maledetti burocrati di merda. Pensate alla salute dei calciatori, idioti. Pensate alle ginocchia e alle capiglie dei calciatori. Burocrati di merda. Solo per i vostri interessi. Comunque, detto questo, ragazzi, ripeto, non accamperemo scuse perché siamo la Juve. Come giochiamo noi su quel campo? Ci giocherà pure la Roma. Punto. Invece, è lui. Dobbiamo parlare di lui. Sì, sì, perché io non accetto, non accetto che mi si dica che gioco di ripartenze. Non è vero che giochiamo di contropiede. Non è vero, Conte. Non è vero. Vero, Antoniuccio? Se ne accorgono anche le pietre, anche i sassi. Che tu giochi, che tu pratichi un calcio di ripartenza, soprattutto in trasferta, dove infatti mi pare che lei ha vinte tutte o quasi. Ma nessuno ti sta dicendo, figlio di puttana. Nessuno sta dicendo questo. Stanno dicendo una cosa che balza sotto gli occhi di tutti e palese. E non c'è niente di male. Si vincono Scudetti, si vincono Champions, si vincono le cose anche così. Però perché rinnegare? Perché? Perché rinnegare? Perché ti vergogni? Un'inutile polemia con Fabio Capelli, oggi con i giornalisti in conferenza stampa, sempre a puntualizzare, sempre a beccarti. Ma nessuno ti dice, stronzo, figlio di puttana. Nessuno. Stanno solo dicendo che pratichi questo calcio. Una squadra organizzata, raccolta dietro, che concede pochi spazi, soprattutto per vie centrali, con quei tre dietro, perché si gioca a cinque comunque, non a tre tu giochi a cinque. E poi negli spazi hai quei due davanti che sono devastanti, sono letali. E ricordatevi sempre che l'enigmista ve l'aveva detto a luglio, che Lukaku era letale. Era un cavallo negli spazi, ricordatevelo. Tutte le polemiche che cosa ve l'avevo detto. Ma nessuno sta dicendo un'eresia. Ma tu perché la rinneghi? È una vergogna dire che giochi di ripartenza? Giochi così. Sicuramente è più facile organizzare un calcio così, che non un calcio che sta cercando di elaborare il nostro mister, di insegnare il nostro mister. Probabilmente ci vorrà più tempo, probabilmente non lo vedremo mai al 100%, quel tipo di calcio, per il tipo di giocatori che abbiamo e per quello che vuole dare il mister, per il gioco che vuole dare il mister, forse non lo vedremo mai. Ma quantomeno ci proviamo. Ma tu non ti devi, ma tu non, piano, piano, piano con i bollenti spiriti di Antonio. Perché non accetti, non accetti Antonio, i due miei giocatori, i miei giocatori che mi dicono di ripartenza. Conte, ripartenze o non ripartenze? Gioco o non gioco? Vittoria o non vittoria? Stai tranquillo che il risultato sarà sempre quello. Tu, a maggio, ti prenderai questo. Fino alla fine ragazzi, forza Juve.